Tedua e Alessia Lanza sembrerebbero essersi lasciati vi spiego perché questa informazione non è confermata al 100% ma è abbastanza palese Alessia Lanza è uscita negli scorsi giorni sul profilo di Emily Pallini con un TikTok abbastanza esplicativo nel senso che fa intuire che qualcuno di recente le abbia spezzato il cuore casualmente proprio in questo periodo con il rilascio del suo libro ora deve passare all'ambulanza, ora e appunto per il rilascio di quest'ultimo è stato realizzato un party a sorpresa con tutte le persone più vicine a lei inclusi anche amici di vecchia data e colleghi guarda caso a questo party non c'era Tedua che però in tutte le altre occasioni precedenti come il concerto di Sfera o le partite allo stadio dell'Inter era sempre presente insieme a lei e anche se fosse lo stadio in un rapporto di amicizia penso che sarebbe stato ovvio il suo invito quindi se non c'è è perché c'è stato un litigio tra i due e ricollegandoci al TikTok di Emily la situazione è abbastanza palese non aggiungo altro ma fatemi sapere voi con un commento qui sotto se ne pensate noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio allo studio allo studio